Come gli specchi sulla pelle, con la propria luce, le giuste anime riflettono, illuminano, quando fuori poco piove e l'aria pesa. Loro sono i punti luce, sì, i punti luce. Dai, tutti abbiamo almeno un sole nella nostra vita. Ma voi lo riuscite a capire con chi splendete? L'armonia è sulla coda dell'occhio quando si osserva chi si ama. Le persone, raga, le persone sono le chiavi, tu sei la tua chiave, ma le persone sono le altre chiavi. Perché ci apriamo così? Ma chi ce lo farebbe fare? Eppure succede, che succede, come? Non lo so, ma succede. Che quanto è bello aprirla, quanto è bello sentire aprire quella serratura. Che maledette siano quelle chiavi che non aprono, quei soldi che non pagano, poi le viti che non girano, e le frasi che non spiegano, e le strade che non portano. Il primo impatto, l'impulso e la scossa. Ed un sorriso è lì. Un sorriso magnitudo 10 sulla scala cuore. Inonda la bocca. Ed un respiro profondo che ossigena la mente e ti dice questo è il bello, eccolo il bello, è questo. Le persone, le giuste persone. Le parole, le giuste parole. L'armonia è sulla coda dell'occhio quando si osserva chi si ama.